C'è un sistema solidaristico, ma non in termini assistenziali, ma in termini di pari di comunicare, di uguagliare, di questo, di guidare, l'abbiamo invocato sull'entrata. Fino ad oggi è stata scelta, ma l'ho dichiarato in maniera confusata, la strada della media. Una bambina protagonista del libro di Michela Muggia, Cappadola, quando la tia gli chiede perché l'italiano non serve, e lei dice che lo fa lo sanno. Allora, non lo capiamo nel momento in cui stiamo affondando in termini economici e sociali, oppure se non lo diciamo a percorso. Grazie a tutti.